Ma voglia raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video, io sono Erbacce, d'oggi andremo a giocare nell'ultimo giorno di stagione assieme, che è diverso dal solito come video perché di solito il video di fine stagione ve lo caricavo giorni dopo e partite fatte in live, non un video come sto facendo in questo momento, quindi appunto sarà diverso dal solito. Fatemi sapere un po' come vi sembrerà questo approccio perché non farò manco tagli, sarà un video così diretto come viene viene, quindi dovreste piacervi, benvenga perché potrò sicuramente farvene molti di più, più spesso. Andiamo a vedere subito qual è la situazione che non c'è tempo da perdere raga, non c'è tempo da perdere perché mancano 20 ore a fine stagione e il video lo vedrete subito fra qualche ora. La tua posizione è il 500esimo al mondo raga, iniziamo a giocare dalla top 5, quando dici giochi in top 500 ecco qui letteralmente sono il 500esimo al mondo in questo momento, quindi non siamo altissimi rispetto magari alle passate stagioni ma ho giocato molto di meno e ho apprezzato molto di meno il meta. Quindi sicuramente queste ragioni hanno influito, nonostante comunque abbia tutto ciò che serve maxato a livello massimo, come vedete qua le nuove carte le ho tutte a livello 15. Non andrò a giocare questo mazzo, o meglio andrò a giocare anche questo mazzo ma switcherò, cambierò un po' di deck per farmi un'idea di quale potrebbe essere il deck più adatto per poi fare una scalata finale verso le 3000 medaglie e non so se oltre perché onestamente penso che questa stagione mi accontenterò anche solo delle 3000 medaglie. Infatti come vedete siamo bassi anche in top italiana però ecco invece in top 10 italiana vorrei provare ad arrivarci in questo video, almeno in top 10 vorrei provare ad arrivarci, dobbiamo fare un centinaio di medaglie, vediamo se ci riusciamo assieme. Quindi che deck giochiamo raga, vorrei giocare un po' più di mazzi, iniziamo giocando questo gigante che già avevo selezionato, quindi iniziamo da questo gigante e poi vediamo un po', sicuramente giocherò anche per Karam Rider che è anche ottimo e potrebbe essere uno dei mazzi con cui scalare verso le 3000 medaglie. Poi questa sera è live, quindi fatemi sapere nei commenti appena il video sarà finito, quale deck vi è piaciuto di più, quale deck vi ha convinte di più così che mi possiate aiutare per capire che deck giocare appunto per la scalata finale. Raga questo video non avrà tagli quindi sarà un video appunto come ho detto proprio così come viene, infatti se si sbrigasse a trovare la partita ne sarei molto 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 grazie mille veramente. Allora, ok siamo qua contro un bel japonese, japonese, no in realtà penso sia cinese, questo è cinese, non è giapponese, questo è cinese perché comunque, eh, me ne intendo, me ne intendo. Allora, ok, bombarolo per lui, io anche ho il bombarolo, potrebbe essere mirror match ma non per, ok no scusa non volevo, non volevo insinuare fosse mirror match, calma 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 calma, non manca affatto così però. Come ho buttato un pecca in faccia, pecca first play comunque raga mi fa capire, mi fa capire la situazione di questo gioco raga, pecca first play se lo fai contro il mazzo sbagliato, cioè ci perdi la partita eh. Tra l'altro sto pecca raga è completamente buttato perché sulla fenice, cioè penso che io non debba letteralmente difendere, faccio un gigante qua che riparto anche col prince, quindi mi faccio anche un favore da solo. Raga, credo che non possa difendere qua eh, cioè, no quella hit, quella hit proprio mi fa, quella hit proprio, quella hit, quella hit non mi va giù, quella hit non mi va giù raga, quella hit non mi va giù ragazzi. Quella hit non mi va giù, comunque abbiamo fatto come vedete un sacco di danni lo stesso, è una torre sotto i 1000 HP quindi, bene lo stesso però, però quella hit non mi va giù. Ok, qua raga il demolitore dovrebbe fare un ottimo lavoro eh, io ci zappo anche, vediamo un po' come riesce a difendere. Mamma mia ragazzi, mamma mia l'esplosione che cosa non è, che cosa non è l'esplosione, quanto danno fa raga, ma poi anche il raggio, anche il raggio, il demolitore assieme a tantissime altre carte verrà nerfato la prossima stagione, praticamente tutto sto deck viene nerfato ragazzi, cioè, tutto sto deck verrà nerfato. Faccio il prince dall'altra lane, perché potrebbe arrivare un pecca a sinistra, non è arrivato il pecca a sinistra perché io ero un po' sbadelisi, mi sa, quindi comunque, anche per quello. Era più probabile che facesse il pecca a sinistra, per questo ho giocato il prince a destra. Perfetto raga, ha messo un pecca sul prince, quel pecca ha preso quasi metà vita dal prince, quindi non mi posso manco lamentare. Qua andiamo a giocare una maledizione, per agevolare un po' la difesa, andiamo a fare anche una zap e dovremmo avere difeso. Sì, prendiamo giusto la bomba, che fa male, però possiamo permetterci di prenderla. Qua raga, lui deve fare un pecca, quindi noi possiamo fare tranquillamente un bomber evo, andiamo a fare una maledizione per danneggiare tutto quanto. Quella è torre raga, perché il bomber ha fatto un tempo a dittare la bandita, di conseguenza ha dittato anche torre. E niente raga, qua dovremmo riuscire a cavarla, anche perché abbiamo la zappevo raga, la zappevo ci caria la difesa. Infatti andiamo subito a farla, bomba rodo per i barbari, occhio perché metterà una bandita dall'altra lane, esattamente, abbiamo il prince. La fenice sarebbe rinata, aspetta in realtà facciamo una maledizione. Ah, è rinata lo stesso, ma non sarebbe stato comunque un problema. GG, buona la prima partita, tra l'altro un matchup che non credo fosse scontatissimo contro pecca, anzi in teoria è di gigante, è in teoria è di pecca contro gigante. Ecco, prendo la palla al balzo, collo con la palla al balzo e vado a giocare pecca, che tanto avrei giocato lo stesso. Lo andiamo subito a mettere, andiamo subito a mettere pecca. Tanto per farci un'idea, nessuna idea raga, ho trovato subito la partita. Prima ci ha messo 30 secondi a trovarla, adesso proprio immediatamente. Tomoki, lui è giapponese veramente. Ok, prima il cinese e poi un giapponese. Vediamo se facciamo il video full asiatici, eh. Vediamo se facciamo il video full asiatici quest'oggi. Un scrittino mi piacciono raga, perché fanno presagire qualche cycle. E pecca è meglio contro i beatdown, piuttosto che contro i cycle. Ah, ha proprio domatore raga, ha proprio domatore. Magari pure quello con pirotecnica, e io non ho niente per la pirotecnica. Cioè, devo togliere con maledizione più zap per farvi capire, oppure zap evoluta. Ok, sì, ha proprio quel deck. Ha proprio quel deck, raga. Io vado a fare un dragon inferno qua. Se è la maledizione, se quello mi ci tira... Ok, no, troppo no. Dunque, andiamo a far così, andiamo anche a zappare. Ok, il goblin è sotto torre. Ha fatto una troppo che non serviva. Ottima la rocket. Ok. Poi direi che ho fatto bene a mettere questa... Questa pressure. Poi direi che ho fatto bene a mettere questa pressure. Il dragon inferno forse fa anche un minimo di danno. Sì, sì, proprio un minimo, mi ha preso la lettera. Però un minimo di danno l'ha fatto. Terremoto cycle a me va bene. Ovviamente abbiamo giocato questo cavaliere, quindi è come se fossimo sopra di... Di tre, di Elzir. Ok, qua poco posso fare, raga. Quindi ripartiamo con una macchina dal fondo. Se mi fa il domatore dall'altra line, devo difendere e non fare i pecca. Se mi fa il domatore dall'altra line. Quindi la pirotecnica è la carta più fastidiosa che lui ha contro il nostro deck. Andiamo a fare di nuovo un dragon inferno qua. Questo lo andiamo a zappare. Bene. Dai, togliami, togliami la pirotecnica. Attiraci sta rocket. Buono. Ok. Qua deve fare anche una... Oh, show, raga. Non so se riesce a fare la testa, sì. Ok, è riuscito a fare la testa, però ottima rocket a torre. Che è già il secondo terzo che tira, eh. Ecco possiamo attivare la centrale. Se riesce a fare il domatore lo farà, però non riesce, mi sa. Quindi attiviamo assolutamente la centrale. Ottimo, raga. Uh, non si è riuscito ad attivare la centrale lui invece, eh. Perché, raga, il mio spirito elettrico è di livello 14. Che il mio spirito elettrico è di livello 14. E lui lo sa. Lui in realtà lo sa, eh. Infatti avete visto che ha messo dei placement particolari per provare ad attivare la centrale, ma non c'è comunque riuscito. Raga, quello vado a fare zappevo, eh. Vado a fare zappevo. Andiamo a fare anche un drag inferno dietro alla macchina volante. Perché, raga, il drag inferno è la carta che lui soffre di più, eh. È la carta che lui più soffre, il drag inferno. Ok. Purtroppo non è morta la Tesla, quindi io speravo che... Oh, raga, hitta! Mamma mia, non ha hittato, ma per poco, eh. Qui arriverà un domatore, stavolta sicuramente arriva il domatore, esatto. Devo giocare il pecca, ma è un pecca che dà un sacco di valio alla pirotecnica. Ok, là. Senza pensarci due volte. Andiamo a fare così. L'avrei dovuta fare anche su una sola, quindi dal momento che me l'ha messa pure in altra. Non c'è... Non c'è da ragionarci. Eh, raga, la Tesla... Tesla è pirotecnica. Questo nel chat secondo me è molto complicato, eh. Ce lo stiamo anche giocando per il momento. Oh, brutta abilità, eh, perché deve difendere... Ha dovuto sprecare una... Una pirotecnica. Pirotecnica che non può fare adesso sul pecca. Che mi avrebbe sicuramente fatto danni perché non avrei potuto evitarli. Quanta è fase di rosa, ragazzi, questa carta. Parliamone. Altra Tesla. Io là, una maledizione, ce la tiro. Se io qua avessi potuto vogliere la pirotecnica, avrei potuto vincere la partita in questo momento, raga. Perché era un'ottima situazione. Oh, raga, ha fatto una testa dall'altra lane, eh. Osho, eh. Tronco sì, però comunque la domatrice è hitta. Ragazzi, il pecca anche dall'altra lane. Un'altra hit. Un'altra hit, non ci credo. Ok, raga, non so che cazzo fare. Mi sa che mi sono preso la hit perché non ho fatto niente, sì. Qua sono andato un attimo in panico perché, raga, il fatto che stia per vincere questo matchup, cioè, non ci credo manco io. Ottima Ram Rider. Spirito elettrico. Abbiamo la centrale attiva, quindi una sola hit, va bene. Ok, in realtà non è poco una sola hit. Perché è comunque una hit. Uh, raga, quella rocket mi salva il culo. Voi non avete idea di quella rocket quanto mi salva il culo. Qua... Oh, spavola il Goblin, eh. Deve difenderlo. Ok. 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 Raga, devo far danni. Me la vince a Terremoto Cycle. Qui, domatrice assolutamente. Spirito elettrico fuori dal range della tronco. Maledizione più zap. La domatrice non ha hittato. Deve difendere il Dragon Inferno. Mi serve un'altra domatrice per fermare il suo domatore. Ok, facciamola già, raga. Facciamola già. Possiamo vincere la di Cycle, no? Maledizione più zap. Dovremmo averla vinta. Mamma mia che partita, raga. L'ho giocata molto bene. Alla fine stavo un po'... Stavo un po' andando in panico, eh. Mi stavo impanicando da solo. Ma... Ce la siamo portata a casa, ragazzi. Una partita veramente tostissima. Io credo che lui avesse un matchup... 80-20. Tecnicismo questo. Insomma, era hard counter. Era hard counter. Due su due, raga. Adesso sì. Vediamo quanto saliamo di posizione. 363 ed eravamo 500. Eravamo cinquecentesimi. Adesso siamo a 3603, quindi abbiamo preso 137 posizioni. Con due partite, raga. Manco male. Manco male, eh. Con due partite. Per nulla male. Allora, andiamo a giocare qualche altro mazzo. Raga, voglio preparare questo deck. È il deck di Pompeio. E siccome Pompeio in questo momento, vi faccio vedere subito, a 20 ore da fine season, è in top... Raga, penso abbia droppato. Era tipo sesto e settimo. Penso abbia droppato. Ah sì, no. Ha droppato perché non ha perso medaglia. Ha perso posizioni perché non ha più giocato. E non è decimo. Con questo mazzo. Con questo mazzo qua. E visto che l'ho maxato, andiamo a provarlo. Andiamo a provarlo. Perché no? Andiamo a giocare più mazzi. Dopo di questo vorrei giocare un altro paio di mazzi e poi direi che ci siamo. E poi direi che ci siamo. Mi fate sapere quale deck vi è piaciuto di più. Cosa ho giocato per il momento? Ho giocato Giganta al primo game. E pecca. Ok. Siamo contro Dario. Che non penso sia italiano. Però il nome, credo, invece, che lo sia assolutamente. Magari mi sbaglio. Non è forse un nome prettamente italiano. Ok. Tronco per lui. Dovesse avere lui domatore pilotecnica dovrebbe essere meglio con questo mazzo piuttosto che col deck che abbiamo a giocare con Pecca, insomma. Ok. Il demolitore contro la Drill è buono. Quindi qua facciamo un buon counter, in teoria. Io andrò a giocare un Miner perché, why not? Il demolitore deve difenderlo, eh. Altrimenti arrivo a Torre. Il Miner dà due hit che niente di che. Però me le prendo, me le accollo. E qua prepariamoci a un Cavaliere. Lui ha sprecato i Goblin per difendere comunque, che non è male. Dovrò fare alcuna testa qua, regà, eh. Perché altrimenti il demolitore mi avrebbe corso verso Torre con la macchina che tancava. Ok. Lui ha sprecato una maledizione perché non serviva. Cioè, non è che l'ha sprecata. L'ha fatta anche di Cycle alla fine, quindi... Non possiamo trarre vantaggi in nessun modo da questa maledizione. Da parte dell'avversario. Eh, ragà, io ho paura a giocare... Ecco, esattamente. Ho paura a giocare il demolitore di Cycle perché... Come me lo giocava dall'altra lane, la drill. Come mi giocava la drill dall'altra lane, eravamo un po' fottuti. Io devo cercare qua di non far entrare la bomba a Torre. Perfetto. Ma andiamo a fare una mongolfiera qua, eh. Ok, deve fare... Ragà, non so se riesce a fare Tesla. Allora, intanto il demolitore è a Torre. Potrebbe arrivare anche la bomba. Ragà, ottimo, eh. Non ha nulla, regà. Andiamo ad infuriare che tanto la posso fare, eh. Perché quello mi basta fare una mega sghiera e lo difendiamo. Non sono riuscito a dare la terza hit, ma... Molto bene, eh. Sì, avrei dovuto... La furia per la serie potrebbe risparmiare, regà. Questi danni che ho preso dai Goblin sono danni completamente gratuiti. E adesso purtroppo non potrò vincerla 1-0 questa partita. Ho vinto la partita con un'ottiamo golfiera e l'ho buttata facendo una furia che non... Che non aveva senso, purtroppo. Andiamo a fare un Miner. Demolitore sempre. Tesla per il suo demolitore. Goblin che hitta Torre, purtroppo, regà. Qui, sì, non posso evitare che mi faccia Torre. Però va bene, secondo me in Tower 3 possiamo giocare forse anche con più... Con più possibilità di quelle che avevamo... 0-0, insomma. Con più possibilità? No, dal momento che io l'avrei vinta la partita se non mi fossi fatto fare Torre da dei Goblin. Però, insomma, avete capito... Che cosa intendo? Raga, io qua andrei con tutto, proprio. Qua andiamo ignoranti con... Là è un'ottima mongolfiera perché... Perché chiaramente... Uh, l'ha sbagliato però il placement della drill, eh. Attenzione qua, eh. Attenzione qua. Andiamo a fare un'altra mongolfiera. Oh, raga, non ho spell. No, raga, non ho spell per la Torre di Destra. No, regà, no, 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 no. La Torre di Destra. Regà, la Torre di Destra. No ma che ho fatto Che ho combinato Che ho combinato Mi ha una bella giocata Che ho combinato Sta partita Non ci credo Che disastro Sta partita Che cazzo ho combinato Vabbè cambiamo deck Peccato Mettiamo mastino Mettiamo questo mastino Questo deck invece L'ho visto da Faust Che attualmente È quinto al mondo Quindi anche questo deck Vorrebbe essere valido Ma peccato Perché l'avevo praticamente Vinta la partita di prima L'ho buttata Facendo una furia a caso E poi Dimenticandomi la furia Cioè proprio la furia In questa partita È stata il nostro La nostra condanna Ragazzi Mamma mia Che disastro Allora Ok siamo contro Uso Lui utilizza Sparchi Utilizza sparchi Al 100% Beh non è male In teoria Perché abbiamo Void e Zap Void Zap Prince Fenice Dovrebbe essere Un buon matchup Dovrebbe essere Un buon matchup Ok La possiamo subito Fare un void Sul mago Una Nihil Dal latino Ok una bella void Là non ce la toglie nessuno Io qua la voglio giocare Di attesa Perché come gioco Mastino dal fondo Lui fa gigante Minipecca Dall'altra lane Quindi Voglio giocarla di attesa Perché noi le difese Le abbiamo Quindi non ci corre Dietro nessuno Abbiamo Prince Abbiamo guardie Io si Ritengo che questo Sia un buon matchup Oddio raga Il mostino Il mostino Il mio Prince Così almeno rimane Full vita Là andiamo a tirare Una Nihil Sul mago Hociopercrui Deve difendere Deve difendermi Un Prince Full vita Facciamo quindi Una valchiera Per tankarmi Quel Prince Per cercare Di dare valore A quel Prince Perché di valore Ne ha raga Ok deve fare Un altro Prince Deve fare Un altro Prince Che possiamo Interimitarci A difendere Con una Zap E dovremmo Essere a posto Perché adesso Interviene anche L'altra torre Quindi Ok due hit Direi che Ce le possiamo permettere Lui è solo il mago Sembrerebbe Che lui abbia Solo il mago Per difendere Truppe aeree Poi possiamo fare Il mestino Perché l'altro Non è un Prince Quindi può fare Solo il gigante Ah lo fa Ok Andiamo a fare Quindi un Prince Sul Goblin Anche se poi Mi correrà Verso torre Ma non dovrebbe Arribarci No invece Che arriva È rimasto con un HP No non è arrivato A torre L'esplosione È stata sicuramente Utile Sulle Sulle guardie Ma non è arrivato A torre Quindi ottimo Raga oscio Perché il mago Viene tirato Ok non viene tirato Ma possiamo fare Una grande Un'ottima nihil Perfetto Perché non ha messo Il placement Antivoid Proverà un push Sulla centrale Mi sa Esattamente Abbiamo le guardie Da fare Sul Prince Prima che metti Il mio Prince Abbiamo un'altra Valchira da fare Appena ci sarà Possibile farla Vi farà un Goblin Sicuramente Un Goblin Demolitore E dovremmo aver vinto La matchup era buono L'ho un po' rischiata Giocando forse E Eccessivamente aggressivo Forse Però Abbiamo portato a casa Il risultato Oddio Era arrivata anche L'esplosione Era arrivata anche L'esplosione Tutto calcolato Per renderla più piccante Siamo a 3 vittorie Una sconfitta In teoria Sì In teoria Siamo a 3 vittorie Una sconfitta Continuiamo Continuiamo Io finché ho mazzi Da giocare Che mi venga in mente Andiamo con Gigante elettrico Giochiamo Giochiamo quello Che ci capita Un top 300 mondiale Quindi Lasciate un bel like Ragazzi Per Per questo tipo di video È un video diverso Dal solito Come vi stavo dicendo Un po' più Un po' più chill Sicuramente Con meno tagli Meno Meno selezioni E Meno Meno tutto Anzi Meno di tutto Ma più di tutto Perché Meno di Meno di tutto Ma più di tutto Nel senso che Vabbè ne capivano Genkazlan Buona fortuna a lui 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 un bro Ragà Un player turco Finalista mondiale Del 2022 Sicuramente molto forte Vediamo Genkazlan Che cosa ci utilizza E vediamo se Questo mazzo Può essere utile Perché anche questo Deck Giant Me lo sono salvato Perché l'ho visto Da un tizio Che stava molto alto Tutti i mazzi Che io ho Negli slot Hanno una storia Dietro ragazzi È importante È importante Che i deck Abbiano una storia Dietro Da raccontare Possibilmente Prince Prince Mago Ci aspettiamo Un gigante Direi no Ci aspettiamo Tutti un bel gigante Deck Bello non lo so Però sicuramente Un gigante Ragazzi potrei fare Giant avanti Qua eh Ottimo Ottimo qua eh Ho messo gli scheletrini Proprio nell'unico Piazzamento In cui Potevano evitare Che quelle frecce Lo hitassero Il tornado Andiamo anche Con una maledizione Andiamo anche Con una Goblin curse Oh raga Oh raga Qua si è messa subito Molto bene Lui deve fare Un mago Che sicuramente Ha una buona value Che sicuramente Gli permette di difende Però Buono start Volendo Penso che riesca A fare il gigante Davanti eh E quindi Credo che lo andrà a fare Esattamente Andrà a fare una felice Sul mago Anche se verrà Chiaramente Esploso via Però Comunque Devo Devo starci Urmaga È stato torre eh Raga La maggior parte Dei danni Che ho preso Quali Ho presi A causa del mago Però direi Che era l'unica difesa Che potevamo fare Siamo comunque Ancora in vantaggio Di HP Quindi tutto sommato Direi bene così Questo sarebbe potuto Può essere anche Un matchup Migliore Di quanto sia Perché Perché al pescatore È vero che io Ho tornato ma Il pescatore può essere Comunque fastidioso eh Perché altrimenti Questo deck gigante Non avrebbe avuto difese Solidissime per il giant Al di fuori del prince Che comunque Rimane una difesa Non Solidissima Non delle migliori Diciamo ecco Vediamo far così qua Raga Andiamo a far così Che bene o male Muore tutto Quindi Quindi non è male Come è in situa Io vengo con il gigante Davanti Possiamo fare gli scheletrini Raga vado a fare Un giant difensivo là eh Senza ombra di dubbi Andiamo a fare un giant Difensivo Molto bene La il gigante lo dipendiamo Abbastanza bene Col prince Anche se un po' di danni Li prendiamo ma Danni che possiamo Permetterci di prendere Oddio Abbiamo preso veramente Tanti danni eh Abbiamo preso veramente Tanti danni Ok Intenzione qua eh Qua è una buona situazione Questa è un'ottima situazione Questa è un'ottima situazione Deve ancora difendere No qua abbiamo vinto Raga Qua abbiamo vinto Qua non c'è più niente Che lui possa fare Raga Maledizione Tornato per tirare indietro Il prince Ed evitare che lo hit Ulteriormente GG GG ragazzi GG Partita non perfetta Però Però questi giant Sembra buono eh Questi giant Sembra buono Vabbè che il matchup Sicuramente Era a nostro favore Quante partite abbiamo giocato Raga Giocate 5 Ne ho vinte 4 Quanto siamo in top italiana 14 esimi No no Noi in top 10 Noi almeno in top 10 Ci entriamo adesso Raga Quindi Cambiamo mazzo Giochiamo Sapete che vorrei giocare un drill Vorrei giocare un drill Non so se me lo so salvato Ah giochiamo questo Anche che volevo provare Col cimitero Giochiamo anche questo Col cimitero Che volevo provare E poi vado a prendere Un bel drill Vado a pescare un bel drill Oh Nick Questo gioca gigante royal Lui gioca gigante royal I know I know I know Buona fortuna Buona fortuna carissimo Ah beh Le difese per il gigante royal Non ha gigante royal Stavo per dire Le difese per il gigante royal Le abbiamo cioè Ero anche Bello casato Mi tira fuori il mastino Bro Andiamo a fare l'abilità Giusto per proteggere il principino Abbiamo tesla frecce Però Principino raga Oramai è una merda Contro Oramai è una merda Il principino Non so se devo fare altro Non penso raga Ok ottimo Buona difesa Ok abbiamo tesla Principino E frecce E' maledizione Che in alcuni casi Può sicuramente esserci di aiuto Anche in difesa Che però qua non credo Non ci fosse bisogno di farla Ok vediamo un po' che cosa Lui dovrebbe fare Penso la valchiria La versione con valchiria E guardie Sì sì Andiamo a fare il cavaliere davanti Raga Potrebbe arrivare la bomba Qua ad un demonitore Sono 700 di danno Univota ragazzi Quindi Ok non arriva perché ha fatto Un'ottima valchiria alta Però comunque abbiamo fatto usare Valchiria e guardie Non è male Potrebbe busciare anche di cimitero Se non avessi draghi dossa Adesso Qua attivo l'abilità Per non liccare E in questa maniera Proteggo ovviamente Anche il little prince Penso che faccio Il massimo davanti No vado a fare Andiamo a fare una maledizione Allora Andiamo a fare una maledizione Così tutto subisce più danno Raga vado a fare un po' che cimitero Perché non ha difese buone Per il cimitero in questo momento Deve fare Ok Guardie Frecce spregate Ma va bene Perché pensavo potesse fare le guardie Che però non ha accelerato in tempo Mi mancava ancora una carta Ottimi danni E lui comunque ha speso un bel po' di risic Quindi quelle frecce non Quelle frecce di troppo Ovviamente di troppo Quelle frecce non Non sono un problema Non ha void per la tesla qua Quindi molto bene Andiamo a fare una maledizione Cavaliere per evitare Che il dragon ferro Mi ditti torre Ok Non so se devo difendere ancora Ma non penso Ma una buona difesa Ok Buona difesa Buona difesa Tesla è io adesso Quindi siamo belli coperti In questo momento Per la tesla evoluta Andiamo a fare un altro demolitore Guardi davanti Per scaricare torre Ok Tiro delle frecce di cycle Oh occhio che arriva Oh è arrivato Ragazzi Sono un sacco di danni Ragazzi Sono un sacco di danni Quelli Qua andiamo con una tesla Little prince in basso Ottimo Demolitore dietro Che potrebbe seriamente Arrivare l'esplosione Potrebbe seriamente Arrivare l'esplosione Ok Vediamo se riesce ad arrivare Ragazzi è arrivata di nuovo 700 di danno ogni volta Più maledizione Più tesla Cavaliere Per distrarre Un po' il tutto Ok Altra maledizione Altra tesla Se possibile Anche se c'è il vuoi d'accanto Ragazzi ma Tanto muore Prima che Prima che possa prendere value Sono due hit quelle Però sono due hit Con la sua torre Che ha 400 HP Però calma Però calma Ragazzi Buono qua Ok ragazzi Fa fatica A non far entrare il demolitore In questa situazione Possiamo anche fare cimitero Perché la valchilare Deve fare alta Esattamente Buonissima cimitero Questa da parte del bacio E Andiamo a fare una maledizione Ottia maledizione Cavaliere qua Tesla Buonissima Tesla Regà Buonissima Tesla Demolitore sempre dietro Potrò fare anche cimitero qua Ma non penso che possa bloccare Il demolitore Quindi Sì GG GG ragazzi eh Siamo a 6 partite 5 vittorie E Non ci sono tagli Perché sto giocando Con tutti i mazzi differenti eh Con tutti i deck differenti Adesso sapete che forse Siamo in top 10 italiana Quindi potrei anche Potremmo chiudere il video Che era l'obiettivo Però io voglio provare Il drill zap Il drill demolitore Ho detto che voglio provarlo Quindi adesso andiamo a provare L'ho trovato contro Regà che non me lo copio Ah ecco qua Eccolo qua E' l'unico L'unico mazzo che ho perso E' l'unica partita che ho perso E' proprio il deck E' proprio il deck Che mi ha fatto perdere L'unica partita Di quest'oggi Quindi eccolo qua Non ci sbagliamo Andiamo a giocarlo Quella che penso Che sarà l'ultima partita Di quest'oggi Quindi raga Fatemi sapere Se questo tipo di video Vi è piaciuto Con un approccio differente Fatemi sapere Quale di questi mazzi Che ho giocato Avete preferito Aspettate perché ancora Dobbiamo giocare Quest'ultima partita E' 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 niente Questo tempo di attesa Ragazzi Ve lo potrei tagliare Ma comunque Non sono altissimo Quindi penso che In altri Cinque secondi massimo E' una partita La trova Cinque Quattro Bene Royal Royal 2800 medaglia Anche per lui Beh comunque Mi sto avvicinando Le 3000 E' stata molto Stata Molto profigua Questa scalata Ok iniziamo Con dei Goblin Vediamo un po' Che tipo di mazzo Ha lui Zap Zap Potrebbe essere Anche Mirror Match Pure io Zap raga Pure io Zap Ok non penso Sia Mirror Match Perché io Quella carta Io non la ho Poi andiamo a fare Una Tesla Che cerchiamo Anche l'evoluzione Quindi Zap Macchina Goblin Potrebbe essere Anche Gigante Potrebbe essere Anche Drill Comunque Che si gioca pure Con la macchina Goblin Ma infatti L'ho pure io Che cazzo dico Ragazzi L'ho pure io Scusate Sono rimbambito Sto mazzo Non l'avevo mai giocato Prima E non mi ero accorto L'avessi pure io Cioè L'avessi pure io La macchina Ok Ragazzi Sapete che il peccato Mi sembra che un po' Lo soffra Farà qualcosa Sicuramente Andiamo di Drill Ring difensiva Ring difensiva Ring difensiva di pure ignoranza Però ottima Buona difesa Con quella Drill E ovvio perché Quel demolitore Arriva a torre In teoria L'esplosione Dovrebbe arrivare a torre E ha fatto un bello Spirito elettrico Bisogna dargli i crediti Bellissimo spirito elettrico Che ha fatto qua Ok Possiamo ignorarlo Andiamo a cilare Ragazzi Sono sopra i divisir Però non saprei come sfruttarlo Quindi non Non voglio rischiare niente Riparto con un demolitore Dal fondo La Tesla Evo Molto forte Tesla in generale Molto forte In questa partita E' molto interessante Questo matchup Ragazzi Ho tre spettatori Beh spero di Spero di averne un po' di più Nel video Onestamente Spero che coloro Che stanno vedendo Il video Siano un po' di più Però tre persone in game Quattro adesso Cinque Ragazzi Una partita famosa Diventerà famosa Sta partita Ragazzi Quattro è deciso Di fare macchina Dalla stessa lane O la lane opposta Ma giochiamola Dalla stessa lane Lui avete visto che Proverà magari A splittare più volte Come già ha fatto Come già ha fatto una volta Andiamo di tronco Cycle Ok Preparo un demolitore Dall'altra lane Fino a Tesla Al centro Sicuramente ci servirà Ottima la rocket Che La macchina Ha sferrato Andiamo a fare Una macchina goblin Che ci serve E Forse andrò a fare Anche la zap Regà Perché Mi serve anche la zap Mi serve anche la zap Ok Prepariamo un altro demolitore Tesla Qui arriva con un altro pecca Ragazzi Non ci siamo toccati torre Praticamente Io non Non sto trovando occasioni Per fare drill Quindi va bene così Continuiamo a giocare Di attesa Continuiamo A rimanere concentrati La macchina goblin È un po' quella carta Che mi preoccupa Devo dire la verità Andiamo con un altro demolitore qua Che distrae tutto quanto Qua andiamo con una Maledizione Andiamo anche con una tronco Qui va con un altro pecca Invece Ok La destra abbiamo difeso Quindi possiamo pensare Uh La destra abbiamo fatto una gran difesa Ragazzi La maledizione è clamorosa Ragazzi Io faccio la drille qua Ragazzi Io faccio la drille qua Faccio anche il demolitore Questa è l'occasione perfetta Per pushare Andiamo a fare anche una maledizione Andiamo a fare anche una zap Per ciclare i goblin Che dovrò fare sulla macchina goblin Per la macchina goblin Però sto facendo un sacco di danni Ho attivato la centrale In compenso Ho attivato la centrale In compenso Possiamo fare un'altra drill Comunque siamo in vantaggio noi Quindi Di che ci va bene Andiamo a fare una tronco Quella è il tato torre Quella è il tato torre E un altro goblin Adesso il tato torre Anche Ottimi danni Ragazzi Abbiamo la tesla In cycle Evoluta Adesso andiamo Ovviamente a fare Non vado a mettere i goblin Ragazzi Andiamo a fare una zap Evoluta quindi Forse non serviva Non serviva Ragazzi Perché la tesla Avrebbe come sapete Rilasciato l'onda Che zappa nuovamente Però non è un problema Non è un problema Per sprecato questa zap Ma possiamo andare con tutto Ragazzi Qua andiamo con tutto Qua andiamo con tutto Ottima l'esplosione Che L'esplosione Che va a togliere Il drag inferno Andiamo con un altro Demolitore qua Ragazzi Perché C'è sempre il rischio Che possa arrivare La bomba a torre Ah posso vincere di cycle Ragazzi Posso vincere di spell cycle È arrivata la bomba È arrivata la bomba Ragazzi 6 vittorie Su 7 partite Con tutti i mazzi Differenti Il video è a mezz'ora esatta Io direi di Di fermarci qua Anche perché abbiamo fatto Un'ottima scalata E siamo sempre Non in Italia Però Con 100 medaglie Già Entreremo in top 5 Però ragazzi Sarà una questione Che Approfondirò E riprenderò Questa sera In live Quindi io spero Che questo video Vi sia piaciuto C'è un bel like Per questo video Di fine stagione Ah in top mondiale Invece come Ah 260 Ragazzi A 500esimi Inizio video A 260esimi Se chi avessi concluso Il video A 250esimo A 250esima Posizione spaccata Sarebbe stata Una coincidenza Glomerosa Comunque ragazzi Ci vediamo stasera Per la live di fine season Dove faremo anche Il watch party Domattina watch party E poi molto probabilmente Uscirà anche L'estratto live Su youtube Che a molti di voi Piace come contenuto Quindi E rimanete aggiornati Iscrivendovi al canale Ciao ragazzi